Festeggiamo a novembre i 10 anni della Gulliver, purtroppo a Pesaro in questi 10 anni mi ha visto sempre un lento e continuo aumento dei bisogni. Attualmente Gulliver segue 430 famiglie, 900 persone per quanto riguarda il pacco alimentare settimanale. Abbiamo attivato una raccolta quotidiana nei supermercati cittadini. Questa raccolta è fatta in tre giorni, noi vorremmo aumentarla a sei giorni su sette e distribuire in più ore. Siamo tanti, le attività sono tantissime, il nostro invito è alla cittadinanza di Pesaro di provare a fare volontariato. Il volontariato può essere fatto due ore, tre ore a settimana, cinque ore al mese, il tempo che uno ha da dedicare. Però è importante che le persone escono di casa e iniziano ad impegnarsi. Quanti sono attualmente i volontari coinvolti? Parliamo di 250 volontari nelle diverse attività e 50 collaboratori, quindi in realtà bisogna essere molto importante. Ma sono tante le cose da fare e l'invito è quello di uscire ovviamente di casa, venire con noi e provare questa esperienza. Perché da una parte aiuta le persone, dall'altra parte accresce anche la persona stessa che lo fa e poi oggi serve.